Sono solo scaramucce. Allora Marco Lupis, che cosa succede tra le due Coree? Perché proprio adesso la decisione di Kim Jong-un di far saltare per aria la palazzina, chiamiamola così, del dialogo e tutto questo ha a che fare con le tensioni tra Cina e Stati Uniti? Guarda, direi intanto che la decisione è stata presa dalla sorella di Kim, cioè Kim Jo-jong che sta emergendo un po' come possibile nuova leader, nuova diciamo dittatora, chiamiamola così, della Corea del Nord e secondo me si inquadra, come ho anche scritto, in una strategia per cui la Corea del Nord cerca attenzione. L'attenzione del mondo che è venuta scemando dal fallimento del dialogo con gli Stati Uniti e dal fatto che anche la Corea del Sud non gli ha prestato l'attenzione desiderata. Volendo ironizzare, diciamo che anche il gesto, quello di far saltare per aria qualcosa, è in effetti un gesto un po' più femminile, tra virgolette, rispetto ai gesti eclatanti abituali di Kim Jong-un invece che consistevano, come sappiamo, nel lanciare missili senza fare facile ironia sulle metafore ad essi collegate. Ma diciamo che sicuramente si tratta di un tentativo di avere attenzione in un momento in cui l'attenzione internazionale è distratta da altri argomenti. Stupisce molto questo riferimento che la sorella di Kim ha fatto, per cui questo far saltare per aria la sede che dovrebbe essere la sede, un ipotetico luogo per un dialogo intercoreano, è stata fatta anche per punire chi dà ospitalità e appoggio ai disertori, quelli che lei ha chiamato la feccia umana. Allora ci stai dicendo una cosa importante fra le varie che ci hai detto, il ruolo ormai decisivo della sorella di Kim Jong-un si era tanto parlato e vociferato della scomparsa direttura del dittatore nordcoreano, poi era ricomparso in pubblico con strani segni, ce li ricordiamo, le fotografie sul polso come se avessero dovuto infiliargli degli aghi o chissà che cosa e poi infine ancora la sorella che sembrava dover essere la sua erede che di fatto potrebbe confermarsi come tale. Diciamo che questo intervento di oggi è molto significativo, se vogliamo leggerlo in questo modo, potrebbe in qualche modo significare che la salute di Kim Jong-un è effettivamente in pericolo e comunque per assurdo, anche se non è mai successo in questa diciamo folle dinastia stalinista della famiglia Kim di cui Kim Jong-un è il terzo dopo Kim Il-sung, il nonno, il fondatore della patria nordcoreana e il padre Kim Jong-il potrebbe forse significare, chissà, che Kim Jong-un stia preparando un po' la sua abdicazione, chiamiamola così, forse per motivi di salute. Certo questo grande spazio dato alla sorella che appunto addirittura è intervenuta facendo le dichiarazioni ufficiali da parte del governo nordcoreano su quello che è un episodio sicuramente eclatante fa saltare per aria la sede di questo centro intercoreano, la dice lunga sul ruolo che sta assumendo o che vuole assumere o che le viene permesso di assumere nell'ambito della dittatura nordcoreana. Certamente, ti chiedevo del quadro generale delle tensioni tra Cina e Stati Uniti, allora è sempre stata Corea del Nord e Corea del Sud un po' il termometro del rapporto tra le due potenze, prima la superpotenza americana e la potenza cinese. Adesso le due superpotenze, una Corea del Sud vicino agli Stati Uniti, un ago infilzato tra le costole del continente cinese e il Corea del Nord che invece era protetta da Pechino. È ancora così o no? Beh sì, assolutamente sì. Diciamo che i governanti cinesi non è che vedono con grande simpatia le bravate di Kim Jong-un e le sue sbruffonate, missili oppure anche adesso esplosioni, infatti il governo di Pechino non ha neanche menzionato l'accaduto, ha solo rilasciato un comunicato dicendo che lui spera e si augura la pace nella penisola coreana. Ma diciamo che la Corea del Nord deve la sua fortuna e la sua stessa esistenza, cioè deve il fatto di non essere stata ancora spazzata via come gli altri regimi diciamo che sono un'eredità della guerra fredda e della cortina di ferro, deve la sua fortuna al fatto di essere un cuscinetto. La Corea del Sud è uno stato cuscinetto tra la Cina con cui confina e la Corea del Nord, scusate, è uno stato cuscinetto tra la Cina con cui confina e la Corea del Sud. Ricordiamoci che in Corea del Sud c'è una massiccia presenza per esempio di militari americani ai bordi della cosiddetta zona demilitalizzata e quindi la Cina ha tutto l'interesse a proteggere la Corea del Nord, a proteggere l'esistenza della Corea del Nord perché se la Corea del Nord sparisse per la Cina vorrebbe dire trovarsi gli americani, cioè l'area di influenza americana che comprende nel Pacifico anche il Giappone eccetera, dietro i suoi confini e questo Pechino non lo permetterà mai, almeno per ora. Ecco, si era anche detto all'ultima domanda per Marco Lupis, fra l'altro scrive sull'Huffington Post, dei soldati americani, si era sentito dire che Trump volesse, facendo il grande accordo, che sembrava quasi raggiunto col dittatore norcoreano, portarli finalmente via? Ecco, tutto questo ormai alla luce di quanto sta avvenendo è impossibile. Ma io non darei onestamente troppa importanza all'accaduto di oggi, come ho detto si tratta un po' della reazione del bambino che spacca il giocattolo per attirare l'attenzione. A mio avviso tutte le opzioni rimangono aperte, non nutro molta fiducia negli intenti, questo attitolo personale, appunto genuinamente pacifisti di Trump, ma ritengo che Trump si sia imbarcato a suo tempo in tutto questo teatrino con la Corea del Nord a solo scopo promozionale, a scopo diciamo di suo marketing personale, se così vogliamo dire, per la sua immagine, per poter dire ecco sono riuscito a fare quello che sembrava impossibile, no? Cioè ho dialogato con la Corea del Nord, ho fatto smettere di essere un pericolo, ma chi vivrà vedrà, ma non diamo troppa importanza all'accaduto. D'accordo, d'accordo, grazie, grazie Marco Lupis per la sua analisi a Fintone Post, fra l'altro grande conoscitore dell'Asia dove ha vissuto e vive gran parte del tempo. D'accordo, grazie a tutti.